Grazie a tutti Grazie a tutti Monica Vitti Bravo Ma nooo ma dai imbrogliato Cos'è? Sì Ragazzi Finalmente ci siamo Che cazzo c'è da meia Eh Carlo Eccolo qua No bacchè Sì perché la brancava La toncava E allora Mi era a mente E' un po' che sono pino io Che sono un polipo Direi l'ha smarinato No E' una limpa Oh che fischia E' un po' che fischia Vai Carlo Vai Carlo Vai Carlo E' un po' che fischia 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 Oh papà E' un po' che fischia Ma hai cazzo E' un po' di merda questa! Il gattoni, macchia, roll... non c'è l'audio! Ah, è un video! Il gattoni! Dove vai, Dami? Non vado andare opere. ... il digore, trattare... ... il coro... ... l'ho fatto da Kok наст extend in le pornografiche... ... l'appoggio a guarda è sul battle! Inizia dell'area del rigore! Crop inarea al di rigore! ... il coro allo inizia in leligholene! Siamo al 22esimo minuto, 40esimo secondo di gioco, così non è, così non è 0, Fiorentina 0, poi reggiamo il gioco. Si vede senza difficoltà a vedere la scuola, l'allenanza della Gigi Necadio. Oh, adesso è dopo più davvero.